guarda c'è un'ambulanza oh wow ce ne sono due forte io guidero l'altra mamma posso fare il gioco dell'ambulanza e io farò finta di ammalarmi bene ok ma non allontanarti troppo adesso ok le ruote dell'ambulanza girano 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 le ruote dell'ambulanza girano per tutta la città oh oh qualcuno è nei guai arriviamo noi a salvare la situazione andiamo la sirena dell'ambulanza fa uh 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 la sirena dell'ambulanza fa uh uh per tutta la città l'ambulanza aiuterà un amico un amico un amico l'ambulanza aiuterà un amico proprio dietro la curva ora respira bene e abbiamo finito il medico salva la situazione salva la situazione il medico salva la situazione a casa tornerà grazie per avermi aiutato beh chi non si fermerebbe per aiutare un amico la luce rossa significa arrivo in arrivo in arrivo la sirena significa stiamo arrivando e tutti gridano orrà hurray oh oh vede un ferito davanti a me oh è il momento della squadra dell'ambulanza un amico si è fatto male al ginocchio fatto male al ginocchio basta salire su quell'albero riposati e bello starai grazie grazie è stato un piacere per la tua felicità andiamo le ruote dell'ambulanza girano 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 le ruote dell'ambulanza girano per tutta la città per tutta la città si signore squadra ambulanza ahahaha ahahahahah ahahahah Grazie a tutti.